La celebrazione di San Francesco, patrono d'Italia del 4 ottobre, ha visto protagonista la regione toscana che dopo 20 anni, dal 1999, è tornata in pellegrinaggio ad offrire l'olio per la lampada votiva che arde presso la tomba del Santo. Si tratta dell'ottantesima celebrazione da quando è stata istituita la staffetta tra le regioni italiane. La cerimonia è stata anticipata da un corteo, partito dal municipio di Assisi e guidato dai ragazzi delle scuole, ai quali sono seguite le autorità laiche e religiose. Presente nella Basilica Superiore di Assisi, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il Presidente della regione toscana Enrico Rossi ha ricordato la figura di San Francesco, celebrata in tutto il territorio toscano, a iniziare dalla Verna, dove San Francesco ha scelto di trascorrere i suoi ritiri spirituali. Questo ci carica di onori e anche di responsabilità. Io credo che c'è un legame, una vicinanza tra Umbre e Toscana e poi anche lo stesso San Francesco si ritirò a la Verna che è in Toscana e poi dopo compose il Cantico delle Creature. Penso che San Francesco appartenga in modo profondo alla nostra cultura. È un onore, sono felice di essere qui oggi. È un'opportunità davvero importante di essere qui a rappresentare la Toscana, che per essere un po' più materialisti in quanto ha capacità di produzione di olio di qualità non è seconda a nessuno. Durante la cerimonia ufficiata da sua eminenza il cardinale Giuseppe Betori è stato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a versare l'olio delle colline toscane e ad accendere la lampada nella basilica superiore di Assisi. Il primo cittadino del capologo toscano ha accostato la figura di San Francesco all'ecologia ricordandone il ruolo di icona laica e religiosa. Il primo cittadino ha sposato la richiesta lanciata dal sindaco di Assisi, Stefania Proietti, di chiedere al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di istituire il 4 ottobre festa nazionale.